Ben ritrovati in JB Cars, sono Jacopo Brambilla e oggi vi presenterò alcuni dei nostri usati Jaguar Land Rover certificati approved partendo da questo Range Rover Velar allestimento SE del 2017 con 52.000 km, motore 3.000, 6 cilindri, 306 CV, vernice Kaikuna Stone con dettagli a contrasto neri quindi badge frontali neri, tetto a contrasto così come le calotte degli specchietti, cerchi da 20 pollici neri, vettura che noi presentiamo ad un prezzo di 56.400 euro. Passiamo ora ad Evoque, Restyling del 2021 quindi con già gli interni rinnovati, nuovo sistema operativo, vettura immatricolata a marzo 21 con 19.000 km, presentata nel colore pastello Fuji White con dettagli a contrasto neri, motore da 2.163 CV mild hybrid, vettura che presentiamo ad un prezzo di 52.000 euro, IVA esposta. Passiamo ora al mondo Jaguar con questo bellissimo esemplare di Jaguar e Pace del 2019, macchina con 185.000 km ma motore revisionato da soli 30.000 km, abbiamo una vettura Fuji White con black pack, dettagli a contrasto nero, cerchi da 20 pollici neri con pinze dei freni rosse, allestimento R-Dynamic S, vettura presentata ad un prezzo di 33.500 euro. Rimanendo su Jaguar e Pace abbiamo ora un modello 2150 CV allestimento S in un blu elettrico molto sportivo, molto particolare, contrasti argento con cerchi da 20 pollici diamantati, vettura del 2018 con 61.400 km. Questa vettura è presentata ad un prezzo di 38.500 euro. Passiamo ora invece al Jaguar F-Pace con questo modello del 2017 con 110.000 km, allestimento Pure con motorizzazione 2180 CV, quattro ruote motrici, vettura presentata ad un prezzo di 27.500 euro. Vettura color Narvik Black con contrasti argentati su frontale e sulla fiancata, cerchi da 19 pollici diamantati. Rimanendo su Jaguar e Pace abbiamo ora un modello del 2018 allestimento Prestige con motore 2180 CV e solamente 46.000 km. Vettura completa di ogni optional, in una colorazione molto particolare, un blu Cesium, molto sportivo. Abbiamo una vettura con radar frontale cruise control adattivo e per quanto riguarda invece l'aspetto estetico contrasti neri. Quindi Black Pack sul frontale e cerchi a contrasto neri. Vettura presentata ad un prezzo di 39.900 euro. E con grande piacere ho la possibilità di proporvi questa bellissima Range Rover in allestimento 50. Pensate, numero 1 di 1970 esemplari prodotti per richiamare la prima serie di Range Rover del 1970. Il colore è una citazione e un richiamo al colore con cui fu presentata. Il nome di questo vernice è Tuscan Blue. Vettura del 2021 presentata ad un prezzo di 145.000 euro con motorizzazione 3.350 CV. Vi ringrazio, come sempre vi ricordo di guardare tutti i nostri profili social e web www.jbcars.it. Potete trovarci a Monza in via Azione Visconti 15. Grazie e arrivederci!